Degrado nel polmone verde di Ragusa lo denuncia il consigliere di opposizione Sergio Ferrincieli che ha raccolto una segnalazione di un cittadino sullo stato di degrado in cui versa la passeggiata naturalistica della vallata Santa Domenica con ingresso da via Natalelli. In pratica sabato scorso, scrive in una nota a Ferrincieli, un ragusano decide di portare due suoi amici milanesi in giro per la città con l'intenzione di mostrare loro le bellezze del territorio. Sceglie così di percorrere il sentiero della vallata. Orgoglio ed entusiasmo iniziali però sono delusi immediatamente dallo stato di degrado che caratterizza tutto il percorso. Spazzatura ed erbaccia hanno completamente distolto l'attenzione da tutto il resto. Il cittadino spiega di aver provato così forte imbarazzo al punto tale da sentirsi in dovere di scusarsi con i suoi ospiti. In queste ore è arrivata la risposta del sindaco di Ragusa Peppe Cassì. Ci sono dei lavori in corso nella vallata. I lavori in corso non sono mai conclusi e quindi in questo momento anche l'accesso dovrebbe essere interdetto dalla parte di via Natalelli perché i lavori che stiamo facendo agli orti urbani, i lavori di recupero del sentiero che pure sono già stati avviati e sono a buon punto, hanno subito un rallentamento, uno stop per motivi burocratici e amministrativi. Abbiamo avuto i problemi con la ditta che in precedenza si occupava degli orti urbani, adesso abbiamo già individuato la nuova ditta. I lavori dovrebbero ricominciare fino al completamento finale nei prossimi giorni. Altra segnalazione arriva dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Alessandro Sittinieri che chiama in causa l'amministrazione Cassì in merito alla rete viare di Marina di Ragusa. Secondo l'esponente del partito della Meloni sarebbe opportuno che venga rivista la rete viare della Borgata soprattutto in quelle vie interessate dalle pozzanghere dopo le piogge. Sittinieri chiede che vengano fatti dei sopralluoghi dall'ufficio tecnico per monitorare le zone definite a rischio. Grazie a tutti.